Su internet sono tutti imprenditori illuminati. Vuoi vendere con la psicofisica quantistica? Usi la legge di attrazione della medicina alternativa? Sei confuso e non sai se sei un Buddha illuminato o un ludopatico incallito. Basta con i giochi. Abbassa la testa e studia il marketing con il libro. Il massimo esperto di marketing, questo non ti renderà milionario per quello non c'è speranza. Compra subito il libro su Amazon.